Per chi si aspettava un'estate calcistica solo ed esclusivamente all'insegna del mercato, del ritiro e delle prime amichevoli, rimarrà deluso, perché da quanto sta succedendo in questi giorni e quello che presumibilmente succederà nei prossimi, si prospetta un'altra estate calda per l'Avellino per questioni extracampo. Un'inchiesta condotta alla Procura della Repubblica e il Capoluogo Avellinese con la collaborazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere presunti reati fiscali di vario genere. A chiusura delle indagini preliminari, i PM potrebbero contestare agli indagati fatturazioni false, credito di imposta per 600.000 euro, violazioni IVA per 900.000 euro e costi non deducibili per 2 milioni di euro. Iscritto nel registro degli indagati, insieme ad altri quattro fornitori, in particolare di servizi, il patron dell'US Avellino, Walter Taccone. Gli inquirenti hanno anche ascoltato, come persona informata sui fatti, l'imprenditore Gravina, che nelle settimane scorse è stato interessato a rilevare quote la società per poi ritirarsi la trattativa per motivazioni non del tutto chiare, riconducibili comunque a faccende legate proprio ai conti della società biancoverde. Il numero 1 al suo dalizio Irpinio, Walter Taccone, era giunto al telefono mentre era in viaggio. Evidentemente contrariato ed arrabbiato, non ha voluto commentare quanto sta succedendo in queste ore, lasciando di fatto, ancora una volta, i tifosi biancoverdi sull'orlo del baratro, senza riuscire a capire effettivamente cosa aspettarsi da quest'estate, nella quale si sperava di poter parlare solo di calcio giocato. Ed invece, ora, l'Avellino rischia grosso tra multe salate, possibile blocco dei conti ed ammende. In questo momento, naturalmente, tutto è in divenire, perché la procura non ha ancora notificato l'avviso di chiusura indagini, che quindi continuano e potrebbero portare, dunque, novità sostanziali in quest'inchiesta, che rischia davvero di rovinare un'estate apparentemente tranquilla dei tifosi biancoverdi.